Seconda parte di 7 in punto, do il buongiorno e benvenuta Federica Formichi che è editrice del progetto Parcours Culture in Movimento, un progetto che rientra in un programma di Culturalmente 2016, un bando per sviluppare le iniziative culturali, un progetto che ha visto una rappresentazione, esibizione, non so quale possa essere il termine più preciso a Padova nei giorni scorsi, ma io le chiedo subito cos'è il Parcours? Perché magari in altri paesi, citava l'Inghilterra prima fuori onda e la Spagna, è diffuso, in Italia cadiamo un po' dal mondo delle nuvole. Sì, in Italia sta iniziando a diffondersi un po' di più, in realtà io lo pratico dal 2012, quindi comunque già da anni viene praticato. Il Parcours, a me piace la definizione come arte dello spostamento, è una disciplina che nasce in Francia negli anni 80, in realtà quindi comunque è ben radicato in Francia, Inghilterra e Spagna. Nasce da questo gruppo di ragazzi della Baglio francese, inizia a diffondersi comunque ed è diciamo una disciplina che ricorda i movimenti usati nel percorso Herbert, che sono gli allenamenti che vengono usati dai militari. Diciamo che utilizziamo l'arredo urbano, comunque l'architettura della città come posto per allenarci, quindi tracciamo dei percorsi e durante il tracciato creiamo dei movimenti con il nostro corpo che possono essere appunto salti, rotolamenti, arrampicate, eccetera. I movimenti devono essere molto fluidi, il più rapido possibile però senza perdere la perfezione del movimento, quindi in un tracciato lo si ripete, ci si allena anche potenziando i muscoli in modo da avere comunque una fluidità del movimento. Ma è uno sport, una danza, uno spettacolo? Perché uno pratica il parkour? Uno spettacolo assolutamente no, in realtà è una disciplina, più che sport direi, che viene utilizzato molto per se stessi ma anche per relazionarsi con gli altri, infatti una delle caratteristiche che più sono belle di questa disciplina è la non competitività, ovvero non ci sono gare o comunque se ci sono, sono fatte molto a livello mediatico, spesso la Red Bull per esempio fa delle competizioni tra virgolette di parkour, ma in realtà a noi non piace utilizzare questo termine. e quindi è una disciplina che aiuta molto anche a relazionarsi con gli altri nella vita spesso, perché comunque affrontando delle paure, non lo so, un salto più lungo del solito, comunque un'altezza che è un po' troppo alta, non parlo di altezze ovviamente semmetriche, però un'altezza che è un po' più alta di quello che di solito si è abituati, e quindi diciamo che affrontando quel salto, quella paura, quel blocco ti aiuta spesso e volentieri anche ad affrontare altri problemi della vita quotidiana. La persona normale che gira per le città, se questa disciplina si diffonderà come mi sembra che sia avvenendo, cosa nota dei singoli individui che in qualche modo si allenano, magari come si vedono quelli che fanno jogging, magari si allenano rapportandosi agli arredi urbani, oppure c'è un gruppo che si esibisce, che si allena, che pratica il parkour contemporaneamente, creando anche un'orchestra di movimenti. E soprattutto i movimenti, visto che si parla di allenamento, lei un po' li ha citati, ma hanno una loro logica, una loro sintonia, una loro sintassi. Sì, 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 questo sicuramente. Diciamo che gli allenamenti possono essere ovviamente individuali, come in gruppo, e di solito se si è in gruppo, per esempio, una persona vede un gruppo allenarsi, che può essere, vede gente che fa pegamenti, gente che fa squat, per esempio, e che è in modo per potenziare i propri muscoli. E diciamo che comunque nel percorrere un tracciato, ovviamente si crea un percorso di movimenti che ovviamente hanno una logica tra loro, nel senso che se si ha un muretto e poi una serie di pali, per esempio, quelli per esempio che vengono usati per le biciclette, si può notare un movimento come una scalata del muretto e poi per arrivare al palo, diciamo, si può come saltare o si può scendere il muretto e creare un, diciamo delle, le chiamo giravolte, però non sono... Sì, è una coreografia, esatto. Ci sono molti movimenti che derivano anche dalla danza contemporanea e molti movimenti che ricordano l'acrobatica. Quindi diciamo che in realtà sono movimenti che l'uomo ha sempre fatto, ovviamente, quindi niente è nuovo, non ci sono movimenti inventati, diciamo, sono tutti movimenti che vengono ripresi comunque da altre discipline o comunque da sport, che vengono praticati da sempre, da tutta la vita. Solo che la palestra è il corredo urbano, la città. Esattamente. In realtà ci sono anche, durante i corsi, ci si allena anche spesso in palestra, però diciamo che è più per sviluppare una tecnica per affrontare l'esterno, diciamo. La location, che si chiama spot, se non sbaglio, dove uno fa la propria pratica sportiva e di disciplina, vengono selezionati prima, oppure come avviene? Oppure io di punto in bianco entro in una piazza, vedo degli arredi urbani che magari sono adeguati ad un mio movimento, un mio esercizio, e se lo faccio, rischiando poi anche che i vigili urbani vengano ad arrestarmi. Arrestare no, perché comunque in realtà cerchiamo e non roviniamo mai nulla. In realtà può essere entrambe le cose, nel senso di solito noi andiamo anche, ci sono dei momenti in cui andiamo a cercare, quindi esploriamo, diciamo, la città, oppure ci sono degli spot che sono già conosciuti e magari andiamo in quello spot e comunque troviamo sempre qualcosa di nuovo. In realtà, ovviamente, soprattutto comunque in Italia, mi ricordo anche io all'inizio, nel 2012, 2013, spesso c'era un certo contrasto comunque anche con alcuni cittadini, però comunque, dato che noi affrontiamo ogni spot comunque con il rispetto, sia per gli edifici che ci sono, sia per la gente che vive quel posto, quindi comunque attraverso la spiegazione o comunque il confronto abbiamo sempre avuto dei risultati positivi. Ovviamente se c'è un contrasto non insistiamo e cambiamo posto, ovviamente. Vengono scambiati per artisti di strada? A volte capita, sì, però siamo artisti di noi stessi, noi non è che ci esibiamo per qualcuno, quindi diciamo che è proprio una disciplina che viene usata per sviluppare il proprio posto. Perché proprio questa pratica, che è quasi una meditazione del corpo, se vogliamo, un approfondimento del corpo, l'ha sviluppata in un contesto urbano quasi a trovare, perché lei prima, abbiamo visto anche, fate dei salti notevoli, è vero che uno supera i propri limiti, però ci vuole anche un certo spirito di allenamento e anche di acrobazia. Qual è appunto la finalità e perché proprio l'arredo urbano? Perché l'arredo urbano pone tanti ostacoli e quindi ti mette alla prova, è una giungla più pericolosa e più insidiosa magari di un campo. Oddio, in realtà dipende, ci sono spesso, andiamo, è che ovviamente vivendo in città è quello che noi abbiamo, quindi in questo caso la città, però per esempio ci sono dei ritiri estivi anche, nella provincia di Bergamo, in cui siamo nella totale natura e ovviamente anche là ti adegui a quello che c'è, è proprio questo lo spirito. Quindi non c'è un legame alla dimensione urbana, pensavo, non lo so, magari anche come obiettivo quello di ridare, si, riappropriarsi anche della propria dimensione umana e nel caos cittadino in modo per abbattere un po' tutti quegli ostacoli che ci sono, che poi sono ostacoli nella nostra testa, al di là dei muretti e dei piloni di cemento. No, in realtà quello è sicuramente anche perché comunque tu affronti, diciamo, per dirla molto in soldoni, affronti un muretto in maniera diversa, invece di dover costeggiare tutto un muro inizia a pensare ma perché non lo sorpasso. Beh, questo da bambini è la prima pensiera, no? Esattamente, infatti i bambini sono bravissimi. Ma nessuno verrebbe il mente di circunnavigare il muretto ma lo salti, solo che qualche volta magari ti sfraccelli. Infatti è proprio per questo che c'è tutto un allenamento dietro, ovviamente dietro i salti che ci sono visti. No, infatti ci tenevo e non è che adesso uno dice mi piace, questa disciplina prende e si butta da un palazzo all'altro, modello si diceva prima 007. Quindi dove si fanno? Perché allora a Padova avete organizzato cosa in relazione al parkour? Perché tu dici che lo pratichi dal 2012 ma non è così visibile. Allora volevo capire nella geografia italiana dove si trova, come si trova, perché ci si scrive, come si fa a iscriversi? Allora diciamo che in Italia appunto da qualche anno ci sono delle diverse reti nazionali che organizzano dei corsi con degli allenatori, degli istruttori certificati. C'è una certificazione che si chiama ADAPT che segue tutto un processo di istruzione dell'allenatore e ci sono dei corsi con cui si può approcciare perché secondo me comunque non si può cominciare da soli, nessuno di noi ha cominciato da soli, da solo, a meno che non fosse proprio quando ancora non c'erano i corsi, però c'è sempre bisogno di qualcuno che comunque ti illustri anche che cos'è. Per esempio a Padova ci sono vari spot che vengono utilizzati spesso per cui la gente ormai già sa che là se tu dici parkour, ah sì sono quelli che si allenano. Dove? C'è a Terra Negra dove c'è davanti alla chiesa proprio, poi c'è la vecchia Melbook in centro sotto i portici, poi c'è… In centrissimo proprio. Sì sì sì, in centro in realtà ce ne sono tantissime, ovviamente centro storico evitiamo perché comunque sono tutti monumenti storici e quindi si evita. Anche perché credo che non è che mandate una segnalazione, andiamo ad allenarci e credo che ci sia comunque una certa diffidenza, ci sia magari anche… Non tantissima, però comunque a meno che non ci siano eventi grandi, per esempio una volta abbiamo organizzato un evento al femminile di parkour e comunque quindi c'era un cospicuo numero di persone che arrivavano da tutta Italia, abbiamo dovuto chiedere ovviamente i permessi. Però se c'è un allenamento e decidiamo un posto ovviamente non c'è bisogno perché comunque siamo all'aperto, stiamo un paio d'ore, due tre ore e poi ce ne andiamo. Tu dicevi prima un allenamento che facciamo per noi stessi, però indubbiamente mescolando passi di danza, coreografia, acrobazia e anche fornite volontariamente o involontariamente uno spettacolo per chi vi guarda, comunque vi esibite in pubblico, vi esibite all'aperto perché si decide di fare parkour. In realtà molti di noi, diciamo che spesso, o comunque parlando anche con i ragazzi, indubbiamente un sacco di ragazzini cominciano perché è bello, perché ovviamente lo vedi ed è la cosa appunto importante che comunque nel processo come si comincia qualsiasi sport, lo vedi, ti piace, lo provi. Ovviamente poi sta nell'istruttore o comunque chi ti aiuta a praticare, spiegarti effettivamente perché stai facendo quella cosa. In realtà ho conosciuto un sacco di ragazzi che dopo un anno, non avendo tutto e subito, quindi non riuscendo a fare le capriole o comunque le rondate che sono quei salti in alto, ovviamente non continuano perché non era quello che si aspettavano. E altri invece che sono assolutamente contenti perché appunto scopri un te stesso che è molto più riflessivo, molto più attento ad alcuni dettagli che prima venivano trascurati e quindi comunque diciamo che infatti per i ragazzini è molto utile per gli adolescenti. Infatti ci sono delle classi apposta per bambini, per adolescenti, si cerca di selezionare comunque perché è un percorso di crescita molto istruttivo. È un addestramento all'autodisciplina proprio perché magari uno vede l'esibizione, la capriola, il salto del muretto, dice è incosciente. In realtà si arriva a fare quelle azioni proprio perché c'è una conoscenza tale del pericolo e lo si fa in sicurezza perché poi se non sbaglio queste caprioli non è che le fate con una rete o qualcosa. No, 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 anzi l'autodisciplina. Non è una sfida del pericolo? C'è chi la prende come una sfida che in realtà non è poi così sbagliato, nel senso non è un errore, diciamo che non deve diventare una, non deve avere una caratteristica negativa. Sì perché ci sono dei casi, non in Italia ma che abbiamo visto in giro per il mondo di ragazzini o anche ragazzi adulti che per un selfie oppure sulle buglie dei grattacieli fanno azioni che sono assolutamente insomma sconsiderate. Quindi c'è il pericolo che possiate essere fraintesi in questo senso. Quello ovviamente è diciamo una pubblicità a livello mediatico, nel senso noi non siamo assolutamente, non ci accostiamo assolutamente a cose del genere. Perché l'evento di Padova? Perché evidentemente serviva. Diciamo che appunto l'evento di parkour che abbiamo presentato a Padova è un evento che viene da un progetto che abbiamo sviluppato attraverso il progetto Black and White Veneto che è un laboratorio culturale organizzato da Chinocchio che è appunto un progetto culturale di Padova che riunisce aspiranti filmmaker con registi già famosi o comunque che già sanno fare il proprio lavoro per diciamo raccontare l'integrazione sociale in Veneto. Quindi noi appunto visto attraverso il gruppo che conoscevamo di Mestre dove comunque c'è un buon numero di ragazzi di origini straniere o comunque che sono nati all'estero e poi sono arrivati in Italia. Abbiamo pensato di diciamo raccontare com'è l'aspetto sociale del parkour. Ovviamente poi si scoprono storie che non sono relative soltanto ovviamente a chi è straniero ma un sociale che riguarda la persona in sé in realtà e quindi abbiamo voluto raccontare l'aspetto che più a me piace del parkour ovvero appunto l'inclusione sociale. Per esempio abbiamo raccontato come questo gruppo di Mestre è rientrato nel programma di prevenzione sociale del Veneto per cui vanno nelle piazze per esempio dove ci sono persone che non fanno niente e loro li invitano ad allenarsi in modo da comunque costruire un rapporto e iniziare ovviamente a includerli socialmente perché comunque spesso queste sono persone marginate. Oppure abbiamo conosciuto un ragazzo, abbiamo voluto raccontare la sua storia che lui quando era giovanissimo dai 12-13 anni, lui è egiziano, faceva parte di una baby gang a Mestre e grazie al parkour, grazie a uno degli allenatori ovviamente si è allontanato perché ovviamente una volta che inizi ad allenarsi ti allontani dalle compagnie, ha capito che la compagnia era negativa per lui e diciamo che adesso è un ragazzo fantastico, super simpatico. Come mai il parkour ha questa valenza di inclusione sociale? Diciamo che una caratteristica per spiegarlo è il fatto che durante un allenamento se tu non riesci a fare per esempio un salto, le altre persone che sono con te, che si stanno allenando con te non è che ti prendono in giro perché tu non sai fare quel salto, anzi ti aiutano a superare le tue parure e a cercare di completare, di chiudere quel salto. Per esempio, quindi in questo modo una persona non si sente rifiutata dal gruppo in cui è, bensì anzi si sente aiutato, si sente come in famiglia diciamo. E quindi questo è il concetto che uso per spiegare l'inclusione. È nato nelle banlie, no? Sì, banlie francese. Uno potrebbe pensare un po' alla box dei nostri, di qualche anno fa, dei nostri quartieri più disadattati eccetera. La box però è un confrontare i propri limiti con un altro, quindi è difficile da capire, anzi non è difficile, insomma non è automatico pensare che nelle banlie la voglia di ribellione, no? Perché si manifesti in una disciplina inclusiva. Beh diciamo che è un po' come l'hip hop, no? O come la danza stessa in realtà. Non è che non per forza ti devi confrontare con qualcun altro, ma in realtà sprigioni tutto quello che hai dentro. Sfoghi. Esatto, lo sfoghi in creare dei movimenti equilibrati per esempio. Su questo concetto torniamo subito dopo la pubblicità con Federica Formichi, ideatrice di questo progetto del parkour cultura in movimento. A tra pochissimo, grazie. Ultima parte di Satinputo, continuiamo a parlare di parkour cultura in movimento. Il parkour è questa disciplina che ti permette di, si diceva qui con me stamattina Federica Formichi, che è ideatrice di un progetto insieme a Elena Zennaro. che ha avuto esplicazione in una esibizione, una forse comunicazione di che cos'è il parkour qualche giorno fa a Padova nell'ambito di il progetto Culturalmente 2016. Dicevi che è nato appunto nelle balie, che è una forma per ritrovare forse il proprio equilibrio sfogando la rabbia che si è in sé. Cioè un modo di convogliare in forma positiva tutti i propri fermenti, è un po' questa la propria requietezza? Sì, sì, ovviamente non sempre requietezza, però chiaramente sì. No, ma requietezza ha anche senso positivo. Sì, certo, ovviamente è proprio un modo di esprimere se stessi, secondo me. Che caratterizza soltanto i giovani? No, assolutamente, ci sono, per esempio, ovviamente in Veneto non ancora, però per esempio a Londra, che è diciamo una delle comunità più grandi, ci sono classi di over 60 comunque. In realtà tutti possono praticarlo ovviamente limitatamente alle proprie capacità. Però un qualsiasi movimento che può essere anche un salire una panca e arrivare dall'altra parte è quel del parkour, ovviamente. Che connessione, cioè si parlava prima con la danza, la cobbazia, in qualche modo è una forma urbana, libera, una forma di ginnastica artistica da strada, si potrebbe definire così, legata poi magari ad alcune arti meditative, arti marziali. Cioè è un mix di tanti componenti? Sì, diciamo che in realtà il parkour è solo un nome per descrivere in realtà dei movimenti che tutti fanno nella loro quotidianità. Ovviamente poi numerose comodità hanno tolto quel movimento, però diciamo che il movimento è innato nell'uomo. Quindi in realtà il parkour è solo un nome della disciplina, però in realtà appunto come dicevo prima niente è nuovo, nessun movimento è nuovo, sono tutte semplicemente applicate diciamo alla città in questo caso. Un movimento che viene fatto con il sottofondo dei rumori urbani o si può anche pensare all'applicazione della musica? Oddio, in realtà di solito non viene utilizzata la musica perché comunque ovviamente anche quello è un modo di distrarsi, però mi ricordo di allenamenti fatti con musica ed erano super rilassanti in realtà. Chiaro che ti adegui alla situazione in cui è, quindi nel momento in cui c'è della musica di sottofondo, però non si va al ritmo della musica, nel senso tu si va al ritmo del proprio corpo, si va al ritmo di quello che stai facendo, del movimento che stai facendo. In realtà se c'è di musica o dei rumori di sottofondo non te ne accorgi. Che connessione c'è adesso? Pensavo agli Stomp, che sono quegli artisti che si esibiscono, ballano e cantano suonando i bidoni piuttosto che non so se c'è una connessione, anche lì in qualche modo quelle forme di espressioni metropolitane, new yorkesi piuttosto che sono un mix tra rabbia ma anche voglia di libera esibizione di sé, non so penso anche alla break dance, tutte queste forme. Sono sicuramente la connessione, a parte che comunque è sicuramente il luogo, perché la città fa parte ovviamente di quello che è, la disciplina, la musica eccetera, sicuramente diciamo che la voglia di esprimere se stessi è sicuramente la cosa che accomuna tutto, come qualsiasi arte, qualsiasi disciplina, però insomma sì. Quanto è importante il parkour, tu parlavi di inclusione sociale prima, ma quanto è anche importante in alcuni ambiti come può essere il Veneto, come possono essere le città di provincia dell'Italia, di metterti a fare dei movimenti imprevisti e quindi uscire un po' dagli schemi e creare una dimensione che poi è la dimensione delle grandi metropoli dove non ti meravigli se uno mangia un panino, se un altro si mette a ballare la break dance, se quell'altro dipinge, una dimensione sempre però di rispetto. Quanto è importante il parkour in questa visione di autodisciplina? Potrebbe essere una molla per vivere gli ambienti liberamente ma rispettandoli? Penso anche a Venezia, alle polemiche che sono nate quest'estate. Diciamo che sicuramente è utile per le città, indubbiamente. Spesso per esempio mentre ci alleniamo ci sono un sacco di persone di una certa età o comunque anziane che si fermano e dicono anche io lo facevo da giovane. In realtà è molto utile perché così ti ricordi che comunque questa cosa è una cosa che non è aggressiva nei confronti dei cittadini o delle città stesse. È qualcosa che serve appunto a riuscire a capire che la città si può vivere in modo diverso, sempre comunque rispettandola, sempre accogliendo ciò che è diverso, ciò che è nuovo, eccetera. Quindi sicuramente è utile per la città. Quanto è anche importante per riappropriarsi degli spazi garantendo poi un presidio degli spazi stessi, perché se gli spazi si vivono, se gli spazi diventano palestre, espressioni di tuoi movimenti, che non sia solo la semplice passeggiata guardando le vetrine, questo diventa anche un presidio del territorio. Quindi quanto può essere appunto e quanto siamo pronti ad accettare questa nuova visione che magari, ripeto, andiamo in una metropoli internazionale, diciamo che è bello, poi se lo vediamo fatto a casa nostra, dici oddio cosa stanno facendo, ci stanno arrampicando sul muretto. In realtà questo era anche uno degli obiettivi del nostro progetto, ovvero per esempio la presentazione del progetto è venuta in piazzetta Gasparotto a Padova, che è comunque un luogo che recentemente ha subito una riqualifica urbana. L'abbiamo voluto fare là apposta per dimostrare come anche posti abbandonati vengono utilizzati per creare proprio un movimento in quella zona. Per esempio a Mestre hanno recentemente inaugurato un ex istituto tecnico, mi pare che comunque era abbandonato da anni e veniva presidiato da barbone o comunque drogati, e loro l'hanno ovviamente riqualificato per diverse attività, tra cui appunto una palestra di parkour. E appunto la riqualifica urbana secondo me è uno degli aspetti migliori che si possono avere, per esempio, perché posti abbandonati vengono utilizzati inizialmente per allenamento, poi a un punto di ritrovo, e quindi ovviamente si rivive tutta una zona che prima non si pensava neanche si potesse rivivere. Il parkour è un hobby, una disciplina? Quante ore alla settimana ci si allena? Lo si fa per professione? Beh c'è chi lo fa per professione ovviamente, ognuno ovviamente lo affronta come vuole. Chiaramente la cosa migliore è allenarsi ogni giorno, infatti, ma per qualsiasi cosa presumo, allenarsi ogni giorno fa bene. Però normalmente quando io avevo cominciato gli allenamenti erano tre per il corso, però ovviamente gli stessi istruttori ti dicono vai a allenarti anche da solo, ma per dire anche solo potenziamento muscolare, quindi fare piegamenti, fare salti, eccetera. E quindi allenarsi ogni giorno è la cosa migliore, se si vuole. Fa bene la salute, immagino. Fa benissimo la salute, è come l'atletica immagino. E è faticoso? Molto faticoso, se si vogliono raggiungere degli obiettivi è molto faticoso, però il fatto è che non è una cosa che fa paura in realtà, cioè si capisce che più fai fatica più è bello. Qual è la figura più complicata, non so, quasi il livello di massima che si può raggiungere, di specializzazione nel parkour? Non è che ci siano dei livelli, a meno che ovviamente non si voglia diventare istruttori, e quindi ovviamente per le certificazioni ci sono vari livelli da superare. Però in realtà io penso che qualsiasi persona che riesce a chiudere un movimento di cui prima va paura è una persona più che qualificata per farlo. In realtà tutti possono farlo, quindi. Quindi l'obiettivo è abbattere le proprie paure, non importa quali siano, perché ognuno di noi ha delle paure, che uno può avere paura a fare un saltino, uno può avere paura, non so, a... Che è un salto più lungo, certo. E quindi l'importante è superare... Una delle cose più importanti è assolutamente superare le proprie paure, questo indubbiamente. In quanti in Italia praticano il parkour così? A livello numerico in realtà non ho idea, però già a Padova in realtà chi frequenta i corsi dal 2012, che saremmo stati penso una ventina, adesso hanno le palestre piene. E sono, tra l'altro, hanno dovuto distribuire in tre palestre diverse, quindi comunque c'è sempre più gente che pratica. Io ringrazio Federica Formichi per questo viaggio nel parkour, disciplina, cultura in movimento, disciplina per se stessi nello spazio urbano. Grazie, ringrazio voi per essere stati con noi anche questa mattina, vi abbiamo proposto dei nuovi racconti, torniamo domani mattina durante la giornata all'edizione del TG. Arrivederci e grazie. Grazie a tutti.